Oggi alla Camera dei Deputati è un evento importante che risponde alla richiesta dei giovani di tutto il mondo per i cambiamenti climatici, perché qui c'è la chiamata del mondo della scuola e della cultura con i rettori delle università italiane. Professor Miani, nonché presidente di Sima, lei da tempo si batte perché cambia la cultura, che effettivamente sta cambiando rispetto all'ambiente. Oggi è un evento qui alla Camera abbastanza importante, perché addirittura i rettori, quindi il mondo della cultura, della scuola che si muove. Sì, mi permetto di dirle che è molto importante. Innanzitutto è la prima volta al mondo che si realizza una progettialità di questo tipo, ovviamente in questo caso rivolto al pubblico italiano e quindi alla Conferenza Italiana dei Rettori, la Crui, che peraltro ha dato il via libera a questa iniziativa e questa giornata viene realizzata sotto legida della Crui e anche della Cattedra Unesco all'educazione, alla salute e sviluppo sostenibile. L'iniziativa è volta a coinvolgere il maggior numero di università pubbliche e private italiane che per farlo dovranno sottoscrivere il nostro manifesto, la cui sintesi è stata pubblicata su The Lancet il 12 di ottobre scorso e nei fatti aderire a una serie di punti che prevedono l'introduzione di curricula universitari sui cambiamenti climatici e le loro ricadute sulla salute, ci sono dati molto allarmanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su quelli che sono i determinanti ambientali della salute a tutti i livelli, in tutti i corsi di laurea e post lauream. Ovviamente Sima, assieme all'OMS, affiancherà e aiuterà le università in questo percorso virtuoso perché noi abbiamo bisogno sempre di più, avremo sempre più bisogno di medici, ma non solo medici, di architetti, di ingegneri, di giuristi, di economisti che siano esperti di questi temi e che possano da un lato contribuire a quelli che sono i progetti di innovazione, di ricerca e di pubblicazioni su questi temi cercando di andare ad individuare quelle che sono le possibili soluzioni per mitigare questi effetti e per ridurre i cambiamenti climatici. Da un lato, dall'altro abbiamo necessità di diffondere il più possibile a tutti i livelli della popolazione e della società civile e non, quindi comunità accademica, scientifica, il mondo in confi industriale, ma anche il mondo della popolazione e della cittadinanza la consapevolezza di questi temi perché conoscere questi argomenti e sapere anche attraverso le nostre linee guida come ridurne l'impatto vuol dire fare prevenzione pre-primaria. La Società Italiana di Medicina Ambientale chiede ai rettori delle università italiane di aderire al manifesto University Rectors for All e la Call for Action al mondo universitario e della cultura vuole essere la risposta ai giovani dei Fridays for Future. Oggi qui a Montecitorio è un evento importante perché il mondo della cultura, dei giovani, della scuola si muove per un impegno che sembra nei sogni del futuro ma invece dovrebbe essere una realtà. Ecco, il rettore delle università, quindi le università, come pensano di agire? Oggi il tema della transizione ambientale è uno dei temi centrali del presente e anche del futuro e le università sono molto impegnate in questo settore da un lato per formare delle competenze nuove quindi inserire dei contenuti ambientali in molte dei curricula universitari che vengono introdotti dall'altro per sviluppare buone pratiche e progetti di ricerca nel campo dell'ambiente e questo è sicuramente una strada molto forte per impegnare i giovani in questo settore. Ecco, ma lei che è nel mondo dei giovani, avverte una sensibilità maggiore, li abbiamo visti in piazza manifestare però poi li vediamo e come interpassano tutti con i loro telefonini, guai a spiegare che anche lì le tecnologie utilizzano materie che inquinano e che costano purtroppo anche vite umane per la ricerca di questi materiali. Sì, questo è proprio il tema, cioè la sensibilità ambientale è cresciuta molto tra i giovani però non è cresciuta la cultura ambientale, quindi questo è il lavoro che va fatto, va fatta crescere questa cultura e per far questo ci vogliono competenze, ci vuole evidenza scientifica per fare in modo che i giovani non solo diventano sensibili ambientalmente ma si impegnino realmente per difendere l'ambiente. Ecco, Presidente, comunque voi farete in modo tale che anche nei curricula di chi è nel mondo dell'università ci sia una sensibilità, ci siano dei corsi di approfondimento, non so che cosa? Sì, sì, si lavorerà, già si sta lavorando in questa direzione per sviluppare sia nuovi curricula sia per inserire nei curriculi esistenti delle competenze che guardano essenzialmente al mondo dell'ambiente e della protezione dell'ambiente. Quindi questa call for action vi vede tutti coinvolti? Sicuramente ci saranno molte università impegnate, chi vorrà sottoscrivere il documento sono convinto che ce ne saranno molte, poi lavorerà in questa direzione che è sicuramente dell'interesse dei giovani e del nostro pianeta. Oggi qui tra i rettori, questa università medica, ecco, come vi potrete muovere per questo cambio totale che si chiede di cultura, non solo? Beh, le università probabilmente sono istituzioni che più possono fare per imprimere una svolta seria. Sono drammi che si stanno celebrando attorno all'umanità e stiamo assistendo così senza far nulla. È necessario che si mobiliti la ricerca, è necessario che si mobiliti l'accademia, è necessario che si mobilitino le teste pensanti per passare da un'industria pesante a un'industria pensante. La nostra università è la più recente università medica di Roma, dopo la cattolica del 1921 e il campus biomedico del 1993. È una recente università che è nata un anno e mezzo fa, attraiamo studenti internazionali di tutto il mondo e abbiamo l'obiettivo di far crescere una nuova generazione di studenti che si occupano di sanità, che abbiano pure la mission di sviluppare un'economia e una società sostenibile. Professore, noi con le nostre telecamere la ritroviamo sempre laddove si parla di difesa della salute dei cittadini e oggi è un evento diverso dagli altri perché è sceso in campo il mondo della scuola e della cultura, quindi lei è di appoggio? Assolutamente sì, per due ordini e motivi, perché la cultura e in particolare la componente universitaria della cultura significa formazione, significa alta formazione e noi non possiamo che pensare che il mondo sia la salute che la sicurezza, la cosiddetta biosicurezza e che l'ambiente sono qualche cosa che lasceremo alle generazioni future, saranno proprio quelle che in un modo o nell'altro erediteranno da noi il mondo che li lasciamo e dovranno cercare di gestirlo, magari forse anche meglio di quanto non l'abbiamo fatto noi. L'errore forse è stato di credere che con la tecnologia si potesse risolvere tutto, non ci siamo resi conto che la tecnologia qualche volta è anche lesiva e distruttiva delle cose che mamma natura ci regala dopo milioni di anni di selezione. E forse proprio i ragazzi, gli adolescenti, i giovani devono comprendere che queste tecnologie di cui loro fanno un uso straordinario, spesso inquinano, distruggono, perché prende per esempio il cobalto o altro di cui sono fatti questi strumenti tecnologici, ecco lo dovrebbero comprendere, che sarà difficile forse lì. Il tema della difesa dell'ambiente è un tema su cui i giovani stanno sensibilizzando moltissimo, lo sappiamo tutti quanti, i vari movimenti che in questi giorni stanno cercando di stimolare la cultura e la politica ad occuparsi un po' di più dell'ambiente. Ovviamente i giovani sono degli entusiasti e quindi spesso e volentieri siamo stati tutti quanti giovani, ritenevamo di poter cambiare il mondo, poi ci si è resi conto che quello che abbiamo cambiato abbiamo perso alcuni pezzi del mondo precedente che invece erano molto importanti. Quindi se possiamo dare un contributo avendo vissuto l'epoca in cui si sono fatte alcune piccole rivoluzioni cerca di contribuire con i giovani a un mondo migliore prossimo. È chiaro che le tecnologie sono anche vericolose ma è chiaro che le tecnologie ci fanno anche star meglio e ci fanno anche avere una serie di possibilità che era impensabile fino a qualche tempo fa. Ed è ovvio che la call for action è anche e soprattutto per le istituzioni. Non ha la bacchetta magica per cambiare il mondo ma in effetti che iniziative serie ci sono? Per la sanità. Sanità e ambiente. Sanità e ambiente secondo me già riprendere il tavolo che fu iniziato all'Istituto di Sanità lo scorso anno per il Laboratorio Mondiale è una grande iniziativa come dicevo poco fa poiché come con questa iniziativa, con il coinvolgimento delle università l'Italia non ha nulla da invidiare per quella che è la formazione, la ricerca, la programmazione. La salute del nostro pianeta corrisponde alla salute di ognuno di noi. Il Ministero fa già molto, dal 2003 ad esempio il piano per le ondate di caldo, sappiamo quanti anziani purtroppo muoiono durante l'estate. Iniziative ve ne sono molto chiaro che bisognerà collaborare con tutti, controlli sull'agroalimentare, tantissime cose. Anche la riconversione di alcune industrie, abbiamo visto quanti bambini per l'ilva di Taranto hanno avuto il cancro. L'ho accennato prima e ho accennato quanto è importante mappare i siti industriali dove ci sono più incidenza di tumore, bonificare le zone di cui siamo già a conoscenza, individuare e potenziare altri rischi ed eliminarli. Quindi il mondo della scuola si muove, si muove in un'ottica totalmente impensabile finora. Che impegno c'è da parte dei rettori? Innanzitutto abbiamo accolto con vivo interesse e piacere l'iniziativa da parte dei rettori che permette anche a livello istituzionale di dare il giusto supporto a questa iniziativa di connubio tra il mondo dell'università, la politica e dall'altra parte tutto ciò che riguarda la formazione, che va dall'istruzione scolastica a quella universitaria. Chiaramente il compito sarà arduo perché l'università certamente avrà il compito di formare i nuovi professionisti, i nuovi imprenditori e i nuovi cittadini che poi daranno risposte alla problematica della salvaguardia dell'ambiente. Però dall'altra parte la politica deve a questo punto sostenere questo progetto perché attraverso questo connubio noi possiamo incidere realmente sulla problematica dei cambiamenti climatici. E che poi bisogna attuare un'economia, le diceva, l'economia circolare. Io ho puntato su un aspetto a me caro, sia sul piano accademico in quanto sono docente universitario ma soprattutto sul fatto che vivo in un territorio dove il problema ambientale e il problema sanitario è un problema molto sentito. Parlo dell'area di Taranto e quindi di conseguenza noi dobbiamo agire soprattutto sui futuri attori economici ma anche non trascurando gli attori economici attuali perché la responsabilità è principalmente del mondo imprenditoriale dove il mondo imprenditoriale deve dare delle reali risposte. E chiaramente gli accordi internazionali già fissano dei miei obiettivi in termini di decarbonizzazione, di economia circolare e di sostenibilità. Ma la grande sfida si gioca secondo me su due aspetti. Oltre a quella della decarbonizzazione ma anche quella dell'economia circolare perché permettere l'innovazione dei materiali può dare un valido contributo alla realizzazione concreta dell'introduzione dell'economia circolare. E qui le università giocano un ruolo importante nell'ambito della ricerca dei materiali produttivi innovativi. Però ci devono essere tanti attori, protagonisti che collaborano per delle scelte che rendono il nostro pianeta ancora vivibile. Le scelte devono essere innanzitutto coraggiose perché se non associamo il coraggio di cambiare il problema è che si rischia che le iniziative, seppur pregevoli, rimangano senza la concretezza che oggi necessariamente noi dobbiamo avere. E quindi nel far questo chiaramente la politica in primis deve avere il coraggio laddove ci sono delle storture di intervenire e di rimediare agli errori del passato. Noi le incontriamo spesso quando si tratta dei diritti dell'uomo di vivere in salute. Salute si tratta, riguarda anche un ambiente che oramai è inquinatissimo, che dovrebbe essere risistemato. Ecco, ma in Commissione voi cosa fate per aiutare questo processo? Beh, noi in Commissione facciamo tantissime cose. Tenga conto che collaboriamo anche con la Commissione Ambiente in questo senso per proprio gestire sia la parte della salute che della parte dell'ambiente. Con l'approvazione del registro tumori abbiamo fatto un grandissimo passo avanti da questo punto di vista perché è chiaro che grazie a questo noi potremo avere dei dati precisi di dove si verificano queste malattie, l'ambiente circostante e con il referto epidemiologico ho anche una statistica precisa. E oggi siamo qui proprio per parlare anche proprio della prevenzione e come si fa la prevenzione con la cultura. La cultura è vero che parte dalle scuole elementari, però poi scuole medie, scuole superiori e anche all'università. E quindi oggi siamo qui per questo, proprio per chiarire come anche all'università c'è la possibilità di fare cultura su questo. Quindi anche il mondo della politica si sta muovendo per dare risposta alla richiesta dei giovani di tutto il mondo che richiedono un futuro. Un futuro più sano, sì, i giovani ce lo chiedono, però diciamo che tutto parte proprio dalla cultura. Dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere, la nostra cultura e io credo che oggi sia una buona occasione per mettere le basi su questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.